Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. In apertura andiamo a vedere la visita di questa mattina a Sulmona del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è intervenuto alla giornata conclusiva del convegno internazionale di studi ovidiani il tutto nell'ambito delle celebrazioni per il bimillenario dalla morte del poeta latino. Il Presidente della Repubblica ha ricordato le tragedie della nostra regione ma sentiamo tutto nel servizio di Paolo Renzetti. Si è conclusa poco prima di mezzogiorno la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Sulmona. Mattarella nel suo discorso all'interno del Teatro Caniglia che si trova alle nostre spalle ha ricordato l'importanza di Ovidio ma ha ricordato anche e soprattutto Fabrizia Di Lorenzo la ragazza sulmonese morta nell'attentato di Berlino e ha ricordato le vittime del terremoto dell'Aquila. Ha parlato anche il Presidente delle sofferenze dell'Abruzzo nelle ultime scosse di terremoto dello scorso inverno e della valanga di Rigopiano. Andiamo ad ascoltare le parole del Presidente della Repubblica e all'uscita del Teatro Caniglia del Governatore della Regione Luciano D'Alfonso. È una giornata importante questa perché ricordiamo la figura in cui Sulmona si ritrova ma in cui si ritrova l'intera cultura non soltanto nel nostro Paese. non è certamente un caso se Dante colloca Ovidio al vertice dell'arte poetica classica insieme a Virgilio, a Omero, a Orazio e a Lucano. È una figura che richiama la ricchezza di questa regione, la ricchezza di questa città. Non è una giornata questa di evasione alla realtà di oggi. Al contrario, il pensiero va, come poco anzi è stato ben ricordato, al terremoto dell'Aquila, alle sue vittime, alle sue distruzioni, all'opera intensa di ricostruzione in corso. Va al terremoto, anzi ai terremoti che negli ultimi mesi hanno colpito il centro Italia, a questa regione. L'Abruzzo è stato colpito da queste tre serie di gravi scossi sismiche, da un maltempo non visto inusuale, mai visto da molti decenni, che si è espresso in maniera emotiva con la tragedia di Copiano, con la tragedia dell'elicottero dei soccorritori genuosamente impegnati in un'opera di soccorso, appunto, caduto su queste montagne. Sono tutti elementi che riconducono la realtà di oggi, agli impegni che abbiamo, così come il pensiero va a Fabrizia Di Lorenzo, ai suoi familiari. Ma questo ci richiama, questo il pensiero delle difficoltà, dei fronti che dobbiamo affrontare, richiama in maniera ancora più vigorosa all'importanza della cultura, senza la quale non vi è la capacità di affrontare problemi, fronti, difficoltà, il nostro futuro. Sul Mona, mi patria est, non è soltanto la composizione di parole in melodia, ma descrive come qui c'è la patria che evoca il suolo sotto il quale sono sepolti i nostri avi. Sul Mona evoca la bellezza delle nostre montagne, la profondità della nostra storia e anche il diritto alle nostre ambizioni. Ovidio ci ha consegnato la capacità e la cultura di concepire il cambiamento, la metaforfosi, l'evoluzione, ciò che si mette in cammino e che va ricompreso. Accogliere il Presidente, che ha voluto essere presente alla chiusura dei lavori del convegno internazionale di studi ovidiani, è stato un riconoscimento di assoluto valore per Sul Mona, per il nostro lavoro e per Ovidio, che è un gigante, un monumento della poesia non solo di Sul Mona naturalmente, ma a livello regionale, nazionale e mondiale. Parliamo ancora di terremoto, perché oggi ricorre l'ottavo anniversario del sisma del 2009 che ha distrutto l'Aquila e buona parte delle città della provincia. Oggi ovviamente è stato il giorno del lutto e del dolore nel capoluogo. Inottata la fiaccolata e la lettura dei nomi delle 309 vittime in Piazza Duomo. Oggi, come detto, il lutto cittadino proclamato dal sindaco Massimo Cialente che è al suo ultimo anniversario del terremoto da primo cittadino, ma vediamo com'è andata la fiaccolata di questa notte nel servizio. Circa 6.000 persone hanno partecipato alla fiaccolata per l'ottava ricorrenza del terremoto del 6 aprile del 2009 che ha distrutto l'Aquila. Il corteo è arrivato in Piazza Duomo intorno alla mezzanotte e mezza e poco dopo è iniziata la lettura dei nomi delle 309 vittime anticipata dalla frase «E loro non ci sono più». In prima fila gli striscioni dei familiari dei defunti, dei genitori dei ragazzi morti alla casa dello studente e di tutti coloro che hanno subito i sismi più recenti del centro Italia. In piazza c'erano anche i gonfaloni della regione Abruzzo, della provincia dell'Aquila e delle città di L'Aquila e di Rieti. Negli ultimi tre anni abbiamo messo 13 miliardi di euro sulla ricostruzione dell'Aquila. Oggi il 77% delle famiglie che era dovuta uscire di casa è rientrata in casa propria. La ricostruzione privata quindi è a buon punto. Prevediamo di completarla nel centro storico entro il 2020, nella città entro il 2022. La ricostruzione pubblica è al 50%, qui bisogna accelerare. Diciamo che è ancora un cantiere aperto, anche quello legislativo, perché le ricostruzioni vanno aggiornate man mano che si presentano i problemi e man mano che le cose vanno avanti. I risultati del 2016 comunque sono positivi. Qualche partecipante ha ascoltato la lettura dei nomi in ginocchio sul selciato della piazza e alla fine sono stati ricordati i morti del sisma del centro Italia, della terra dei fuochi, le vittime dell'amianto e quelle di San Giuliano di Puglia. A scandire il tutto i 309 rintocchi della campana della Chiesa delle Anime Sante è tornata a suonare da pochi mesi nell'ambito dei lavori di ricostruzione confinanziati dalla Francia e ormai quasi terminati. All'una la fiaccolata è terminata, ma molti hanno scelto di assistere alla messa celebrata dall'arcivescovo metropolita Monsignor Giuseppe Petrocchi all'interno della Chiesa di San Giuseppe Artigiano. Alla funzione tra gli altri hanno preso parte anche il prefetto Giuseppe Linardi, accompagnato dai vertici delle forze dell'ordine. A conclusione della messa c'è stata la veglia finale fino alle 3.32 nella Cappella della Memoria accanto alla Chiesa delle Anime Sante. Cambiamo pagina adesso, ci occupiamo della politica regionale con il Movimento 5 Stelle che chiede un riordino globale della legislazione regionale. ci sono quasi 3.000 norme obsolete che attanagliano la nostra regione e dunque i 5 Stelle si appellano al governo regionale per dare un ordine preciso alla legislazione. Vediamo. Dal 1972 al 31 dicembre 2015 l'Abruzzo aveva promulgato 3.508 leggi, arrivate oggi a 2.830 grazie all'abrogazione nel corso degli anni di 678. Un numero tutt'ora ingente se si pensa che il Trentino Alto Adige ne conta solo 517, risultando regione virtuosa e snella burocraticamente. È il Movimento 5 Stelle a portare sul tavolo la classifica delle regioni più intrappolate a livello legislativo. C'è un testo unico sul commercio che attende di essere approvato da quando ci siamo insediati e che ancora non è approvato. Penso all'urbanistica che è una materia vastissima e di difficile consultazione che certamente sarebbe aiutata da un testo unico. Tra le proposte dei 5 Stelle volte a garantire omogeneità, chiarezza e semplicità ci sono un provvedimento taglia-leggi, l'istituzionalizzazione di un provvedimento di manutenzione normativa che non lasci diventare obsolete le leggi esistenti e infine un riordino generale che preveda anche testi unici su temi quali agricoltura, ambiente, commercio, urbanistica, edilizia, turismo, welfare e nomine. La regione Abruzzo, gli abruzzesi e le imprese abruzzesi sono sottoposti in media al doppio delle leggi rispetto ai cittadini e alle imprese delle altre regioni. Evidentemente la regione facile e veloce che il presidente D'Alfonso prometteva in campagna elettorale non si è ancora vista e non la vediamo nemmeno all'orizzonte. Quello che chiediamo è un riordino di tutta la legislazione abruzzese con un provvedimento taglia-leggi in modo tale da ripulire l'ordinamento regionale da tutte quelle leggi obsolete che sono però ancora in vigore, che ingolfano tutti i procedimenti e che molto spesso creano anche contenziosi. Chiediamo inoltre la redazione, una volta per tutte, di tanti testi unici in modo tale da avere per ogni materia, per ogni competenza un'unica legge completa e di facile consultazione. Ed ora a Pescara torniamo al Consiglio Comunale di ieri che ha sancito Pagnanelli quale nuovo presidente del Consiglio Comunale al posto di Blasioli che è diventato vice-sindaco in un domino che ha portato Enzo Del Vecchio alla segreteria del governatore D'Alfonso. Sempre ieri ha fatto il suo ingresso nella Sise Cifica Stefano Casciano primo dei non eletti del Partito Democratico. Per lui è stato un ritorno dopo nove anni di assenza. Ascoltiamolo nell'intervista. Che effetto l'ha fatto rientrare in Consiglio Comunale dopo nove anni? Eh, rientrare dopo nove anni in Consiglio Comunale diciamo che mi ha creato una certa emozione. Sono molto emozionato, però entro in Consiglio Comunale consapevole del grande lavoro che c'è da fare e metterò tutto me stesso a disposizione di questa amministrazione e della città. C'è qualche tema che le sta particolarmente a cuore che vorrebbe portare avanti all'interno della maggioranza? Ma i temi che mi stanno più a cuore sono quelli legati alle politiche sociali e anche ai lavori pubblici, diciamo. I temi legati alle politiche sociali noi viviamo una crisi che colpisce le famiglie di Pescara in particolar modo le famiglie che risiedono nei quartieri popolari io spero di riuscire a dedicarmi maggiormente a loro. E poi per quanto riguarda i lavori pubblici Pescara, nonostante il grande lavoro che stanno facendo come amministrazione diciamo che ci sono ancora alcune lacune da colmare. A Lanciano Ecolan cambia pelle ha un nuovo statuto ma non si placano le polemiche attorno alla partecipata con Forza Italia e in particolare Fabrizio Di Stefano che contestano sia la governance che il futuro di questa azienda. Vediamo il servizio. Dopo il passaggio nei consigli comunali i 53 sindaci soci di Ecolan, l'ex consorzio rifiuti di Lanciano hanno adottato il nuovo statuto della SPA pubblica alla presenza del notaio l'assemblea presieduta dal sindaco di Lanciano e riunita in seduta straordinaria ha approvato il nuovo documento che rafforza il controllo analogo in materia di affidamento dei servizi in house un passaggio obbligato dopo i rilievi del Tarrabruzzo che a novembre scorso aveva bocciato le delibere di affidamento in house a Ecolan per i servizi di igiene urbana nei comuni di Lanciano e a Tessa ancora prima era stata annullata la delibera del comune di Orsogna chi pagherà i danni del periodo in cui la società in house ha svolto il servizio senza essere in regola è questa una delle domande che pone l'onorevole Fabrizio Di Stefano deputato di Forza Italia ma mi preoccupa se questa grossolanità con cui viene amministrata Ecolan dovesse andare avanti soprattutto perché ho appreso qualche giorno fa dai giornali che colui che non so con quanta legittimità sia stato nominato direttore generale Gabriele Di Pietro è stato rinviato a giudizio per bancarotta preferenziale per la società Sogesa che gestiva l'analogo consorzio di rifiuti del Terramano ora se tanto mi da tanto io lungi da me dal dare un giudizio dal punto di vista giudiziario della vicenda saranno i magistrati di Terramani a giudicare però un dato è certo che il Sogesa è fallito io non vorrei che questa gestione così con tanti dubbi e con certezze testimoniate anche da queste modifiche statutarie che evidentemente vanno a sanare qualcosa che sano non era non vorrei che anche Ecolan arrivasse a dover tra qualche tempo sancire un tracollo economico ed ora siamo ai temi del commercio al comune di Pescara si è attuato un piano per il rilancio del quadrilatero dello shopping nella zona centrale della città a disposizione ci sono 50.000 euro di fondi da spendere in accordo con gli esercenti e destinati ad iniziative e progetti volti ad attrarre possibili consumatori in centro città sentiamo dalle parole i fatti così annuncia l'assessore al commercio Giacomo Cuzzi che spiega il progetto messo in campo dall'amministrazione comunale per dare nuovo slancio al cosiddetto centro commerciale naturale di Pescara il quadrilatero dello shopping del centro città avrà a disposizione 50.000 euro per l'avvio di iniziative dedicate al salotto buono avremo una prima posta di 50.000 euro appunto per la nascita la creazione e poi l'attuazione dei programmi che andranno a lanciare il centro commerciale naturale faremo degli incontri a partire da oggi con le associazioni di categoria con le associazioni di commercianti con i commercianti singoli per avere un programma snello veloce e rapido affinché questo fatto del centro commerciale naturale presto diventi realtà sarà una serie organizzativa che punta a rilanciare la vocazione attrattiva a far arrivare tanta gente in città e a rilanciare il commercio commercianti ed esercenti saranno chiamati personalmente a dare il proprio contributo nell'ideazione e costruzione di iniziative capaci di offrire appetibilità e fermento allo shopping cittadino stiamo facendo un calendario in sinergia con le ente manifestazioni con la camera di commercio col porto turistico e sicuramente ci saranno tanti appuntamenti anche a vocazione soprattutto a vocazione commerciale che poi puntano a segnare dei più per la nostra città che significano il rilancio dell'economia Ora i temi della sanità risultati di tutto rispetto per il biennio di screening della mammella organizzato dalla ASL di Teramo sono state raggiunte 40.000 donne dalle lettere inviate dalla ASL di cui ha risposto il 60% circa il servizio comunque sarà potenziato anche perché sono previsti nuovi arrivi di macchinari nei presidi ospedalieri Teramani inoltre lo screening ha fatto sì di abbattere anche le liste d'attesa sentiamo l'intervista al dottor Capone della radiologia dell'ospedale di Atri Dottor Capone dal 2014 siete partiti con lo screening della mammella eravate a zero siete arrivati al 60% e oltre un risultato che è andato anche oltre le più rose aspettative sì sicuramente sì nel 2014 nell'estate del 2014 la regione ci ha ricordato che bisognava attivare lo screening della mammella che era un LEA un livello essenziale di assistenza e che noi eravamo carenti in quanto fino all'agosto non avevamo fatto nemmeno una mammografia di screening quindi siamo partiti ci siamo organizzati con una struttura che era inesistente abbiamo reclutato tutto il personale medici infermieri tecnici di radiologia in tutti e quattro gli ospedali e gli obiettivi erano due quello di chiamare tutte le donne tra i 50 e i 69 anni quindi inviare una lettera a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni quindi coprire al 100% la chiamata delle donne è un obiettivo che abbiamo raggiunto e soprattutto ottenere un'adesione all'attività di screening che almeno raggiungesse il 60% ma soprattutto abbiamo lavorato sull'informazione delle persone e abbiamo fatto l'informazione a doppio senso non abbiamo solo comunicato quello che facevamo detto quello che facevamo ma abbiamo anche attivato delle centrali di ascolto alle sue spalle c'è una mammografia in questo caso positiva che ci introduce insomma al tema dei risultati tante volte si dice importante la prevenzione e in questo caso lo screening si muove in questo senso prevenzione che è importante perché si può cogliere il tumore prima che dia sintomi sì il senso dello screening è proprio questo lo screening nell'attività di screening si lavora su persone sane cioè noi chiamiamo le persone sane perché noi sappiamo che quella malattia colpirà una certa percentuale di queste persone e fare una diagnosi precoce della malattia in modo tale da facilitare il percorso successivo della paziente rendere più agevole meno demolitiva la chirurgia meno impattante diciamo così l'intervento dell'oncologo successivo con tutti i farmaci che sappiamo che sono abbastanza importanti domenica 9 aprile a Campli si ritroveranno tutti gli appassionati di escursioni estreme e di quad per un consueto raduno nazionale intanto la città di Campli e quella di Pietracamela hanno rappresentato l'Abruzzo alla BIT la Borsa Internazionale del Turismo a Milano dove hanno intercettato ottimi flussi turistici ci racconta tutto Tania Bonici Castelli la città di Campli e il piccolo borgo di Pietracamela hanno rappresentato l'Abruzzo alla BIT di Milano oltre allo stand istituzionale della regione solo queste due realtà terramane si sono presentate alla Borsa Internazionale del Turismo offrendo pacchetti soggiorno pieni di arte cultura e una montagna meravigliosa Campi è il terzo anno che va a questa manifestazione quest'anno siamo stati insieme a Pietracamela noi lo volevamo molto quest'anno perché è successo tantissimo nel nostro territorio tra frane maltempo e terremoto quindi avevamo bisogno di far conoscere le nostre bellezze anche perché nei mesi precedenti al terremoto avevamo avuto un grosso riscontro di flussi turistici e questo è anche perché abbiamo partecipato a questa Borsa Internazionale del Turismo in cui ci sono tutti gli operatori turistici del mondo e quindi è una vetrina importante per far conoscere il nostro territorio intanto domenica domenica 9 aprile a Campi appuntamento per gli appassionati del quad con il secondo raduno nazionale organizzato dall'associazione sportiva Amfibi alla scorsa edizione hanno partecipato centinaia di persone provenienti da tutta Italia appassionate di fuoristrada ed escursioni estreme Berardo Marchetti presidente dell'associazione sportiva Amfibi il 9 aprile secondo raduno quad a Campi come si svolgerà la manifestazione? Tecnicamente si svolgerà arrivano in piazza la solita iscrizione fa una breve descrizione del percorso una fangaia subito immediatamente poi sterrato veloce si sale in montagna fino a circa mille metri dove quest'anno avremo ancora la fortuna di trovare la neve la fortuna sfortuna di trovare la neve per poi riscendere verso la vallata un piccolo sforamento di percorso verso il comune di Civitella poi rientro sempre a Campi percorsi prevalentemente sterrati per poi entrare nel tecnico con delle pietraie dove più trial che percorso veloce piccoli guardie di fiume risalire un fiume per circa 85 chilometri e ritrovo alla partenza quindi a Campovalano dove hanno lasciato i mezzi per la cena solita che si usa a fare ed ora siamo allo sport e al Pescara oggi doppia seduta di allenamento per i Biancazzurri che saranno impegnati dopo domani ad Empoli al Castellani nello scontro salvezza della 31esima giornata di campionato ieri lavoro differenziato con terapie per Stendardo e Vitturini è rientrato in gruppo Andrea Coda mentre Gilardino e Pepe proseguono il percorso di riabilitazione andiamo ad ascoltare la presentazione della partita nelle parole del tecnico Zeman bisogna provarci sempre a prescindere come finisce ma io penso che nessuno vuole arrivare ultimo c'è la possibilità matematica ancora di salvarsi e dobbiamo cercare di sfruttare queste possibilità non riesco a coincidere come vorrei infatti nemmeno con Milano io penso che si poteva fare anche meglio poi è normale che non non ci si riesce sempre a fare quello che vorrei io però riconosco la squadra grande grande impegno grande volontà un ragazzo fa una partita e già c'è Milano Real Madrid Barcellona penso che ci vuole un po' di calma aspettiamo che cosa che cosa riesce a fare sicuramente talento c'è là poi bisogna svilupparla perché così non basta non vorrei che è il Milan che ci ha dato delle motivazioni diverse da altre partite penso che poi questa squadra con le squadre di nome ha fatto sempre benino sul piano di gioco bisogna farlo anche con le altre in Lega Pro terza vittoria in quattro gare per il Teramo che ad Ancona è Corsaro e nel turno infrasettimanale si rilancia in maniera prepotente per la colsa alla salvezza diretta vediamo il servizio di Jacopo Forcella altro giro altra vittoria il cammino del Teramo continua inesorabile anche nella serata quella di Ancona nella quale il diavolo porta a casa tre punti di fondamentale importanza in una partita difficile sofferta e che risolve il laguizzo di Riccardo Barbuti quando ormai in pochi ci credevano perché i biancorossi giocano male un deciso passo indietro rispetto a sabato contro la San Benedettese ma riescono comunque a guadagnare su tutte le dirette concorrenti l'infrasettimanale e il del Conero per una volta diventano alleati della formazione di Ugolotti che si sta a 34 punti in classifica e comincia a intravedere lo strescione del traguardo finale e dire che l'Ancona a fanalino di coda e con tanti problemi ancora da risolvere ce la mette tutta per rendere difficile la vita al Teramo con Frediani che regge praticamente da solo e da esterno tutto l'attacco d'Orico l'ex Aquilano si propone si fa vedere e come alla 43esimo rischia di portare in vantaggio i suoi con il colpo di testa in tuffo sul quale peraltro c'è una netta spinta di Sales che però Panarese giudica regolare il diavolo fa fatica e si vede il terreno di gioco non perfetto non dà una mano e l'undici di Tiziano De Patre ieri squalificato prova a portare delle insidie dalle parti di Narciso anche nella ripresa con Voltan e Daffara il cui traversione non è controllato da un deludente Paolucci ma è il 58esimo che Ugolotti pesca il jolly dalla panchina fuori frattangelo dentro appunto Riccardo Barbuti che a novembre risolse un'Ancona Lumezzane con un suo gol l'attaccante ci prova subito in spaccata ma senza fortuna l'Ancona va vicino al vantaggio al 73esimo quando Voltan trova il corridoio per Frediani ma il diagonale troppo debole troppo poco angolato per far male al Diavolo che quattro minuti dopo ha il sussulto vincente azione costruita in ripartenza sull'asse Speranza Spighi Barbuti contropiede talmente fulmino da prendere di sorpresa la retroguardia di casa con la punta che passa tra Frediani e Barilaro e scarica in porta il gol Vittoria e una liberazione anche per i 200 tifosi del Diavolo mentre sul fronte opposto monta la contestazione per un ultimo posto e una deriva societaria che sta portando l'Ancona di nuovo tra i dilettanti il Teramo prende e porta a casa la terza vittoria nelle ultime quattro gare in 18 giorni dal 6 a 0 al gubbio del 19 marzo alla serata del Del Conero il panorama in casa bianco-rossa è cambiato radicalmente Ugo Lotti sta perfezionando un miracolo sportivo che dopo la sconfitta con l'Albino Leffe pareva impensabile merito suo e di una squadra sempre più convinta che la permanenza in Lega Pro sia una missione assolutamente possibile ma io ho sempre detto che questa squadra ha i numeri per potersi salvare è normale che dovevamo fare un percorso diverso da quello che avevamo intrapreso perché avevamo fatto sotto la mia gestione due partite e quattro punti poi tre sconfitte adesso siamo in serie positiva è normale che con i tre punti si fa presto a scavalcare posizioni però per arrivare a 42 punti ancora ne manca di strada di consenso dovremmo essere ancora molto bravi ho visto partite in cui l'Ancona ha perso in casa col Pordenone dove non meritava di perdere ha perso in casa con il Sud di Rod dove non meritava di perdere perciò se le altre squadre che stanno davanti a noi vincono le partite sporche non vedo per quale motivo ci dobbiamo vergognare noi e questo che mancava allora al Teramo? no al Teramo mancava la convinzione perché è una squadra che ha delle buone caratteristiche e mancava quel pizzico di fortuna perché senza quella non vai da nessuna parte perché è inutile riconoscere che oggi quel pizzico di fortuna è stato dalla nostra parte però bisogna andarla anche a cercare con il lavoro settimanale questo è un gruppo che da un mese e mezzo a questa parte sta lavorando molto sotto è tutto anche per la seconda edizione del TG6 il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 23 grazie per essere stati con noi vi auguro una buona serata grazie a tutti